Buonasera a tutti amici. Faccio questo video in questo momento per creare insieme con voi un intento, un intento per il benessere, quindi focalizzarci insieme nell'essere soluzione e nell'essere vibrazione, benefica per noi stessi e per chiunque abbiamo intorno, incontriamo e con cui abbiamo a che fare e anche no. Insomma possiamo consapevolmente attraverso la respirazione, quindi inspiriamo, profondamente, con calma, espiriamo completamente, buttiamo fuori tutto, rilassiamo, rilasciamo ogni tensione, ogni resistenza verso il momento presente e accogliamo sempre di più, sentiamo sempre di più pace. Focalizziamo l'attenzione sui piedi, sulla sensazione di essere ben ancorati a terra e lasciamo che la terra ci doni sicurezza, certezza, fiducia, sostanza, forza, consapevolezza e presenza. Respiriamo ancora profondamente e sentiamoci protetti, sentiamoci in un luogo sicuro dove tutto va per il meglio e dove noi possiamo essere soluzione per noi stessi. Ascoltiamo i pensieri, le emozioni, tutto ciò che vediamo, che ci attraversa, che sentiamo e accogliamolo, accettiamolo, lasciamolo andare, illuminiamolo e ricordiamo a noi stessi che siamo soluzione, che stiamo bene, che siamo in armonia con noi stessi, che va tutto bene e che possiamo aumentare il benessere in noi stessi. Semplicemente respirando, semplicemente lasciando andare le tensioni dal collo, le spalle, il corpo, svuotiamo lo stomaco da tutte le resistenze, le tensioni, le gambe e sentiamo la connessione con la terra, con il cielo e con la terra. E in quanto connessione, in quanto ponte fra cielo e terra, possiamo co-creare per noi un intento di pace, di amore e attrarre a noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi chiedo a voi, se vi piace questo video, di condividerlo e spero, anzi sono certo, che questo semplice minuto, questa semplice attenzione verso il tuo respiro, verso l'osservazione consapevole dei pensieri, delle emozioni, abbia creato in te uno spazio, maggiore pace, maggiore benessere, magari uno spazio dove hai potuto organizzare meglio i tuoi pensieri, i tuoi progetti e tutte le tue emozioni, scegliendo le più performanti, le più utili, le più adatte a raggiungere il benessere che vuoi, che sei. auguro a te e a tutti quanti una splendida serata, un abbraccio, a presto e che sia sempre gioia e che sia sempre scelta di amare, di stare bene e di essere soluzione. A presto a tutti per una lezione insieme e presto anche all'aperto. Per chi vuole mi scriva pure, saremo all'aperto, a distanza, con le mascherine, ove necessario, spero non sia più necessario, ma se fosse necessario li utilizzeremo, a distanza, quindi in piena sicurezza, ma siamo noi la soluzione. Quindi buona serata, ciao a tutti.